Abituatevi a considerare che la politica non è soltanto un sondaggio, perché i sondaggi ti dicono quanto sei simpatico, poi ci sono i dati Istat che ti dicono quanto sei competente, bravo, capace. La politica è innanzitutto capacità di portare a casa dei risultati. Noi abbiamo cercato di capire dal Presidente del Consiglio se c'era la volontà o meno di ascoltare le prese di posizioni di Italia Viva. Guardate che io mi sono preso un sacco di insulti dei miei che mi hanno detto ma bisogna mandarla a casa, bisogna votare contro. Molti non erano d'accordo con il fatto di fare quel passaggio e salvare il Ministro Bonafede. Però io penso che se fai politica non la fai per una tua esigenza personale di portare a casa dei risultati, di risentimenti personali. La politica per me è innanzitutto portare a casa dei risultati per la gente. Quando abbiamo capito che c'erano le condizioni per poter arrivare la Commissione Ministeriale sui temi della giustizia, la roba sul piano shock, le cose che ricordavo prima sui decreti e sulle riaperture. Tra l'altro penso di poterlo dire, prima si riapre meglio è. Posso andare ragazzi? Grazie mille. È stata una lunga intervista soltanto perché c'è il lockdown. Adesso mi lasciate. Per i prossimi 3-4 mesi ci sentiamo con calma. Ciao a tutti. Arrivederci. Quelle sono le botte. Se ti vuole finito. Ciao.